in questo video ne approfitto per salutare Emanuele Zucchini e se questo video raggiunge i 10 like farò un'altra prova non spaventarti con un altro amico Ah, credo aver sbagliato intro, c'è un qualcosa che non mi quadra Bella a tutti ragazzi con Antix che parla e benvenuti in questo nuovissimo video Innanzitutto voglio scusarmi di una cosa, se è da tanto che non faccio un video però ho iniziato a scuola, a far studiare balle varie, non sono riuscito per niente a dedicare tempo a YouTube Ma voglio rimediare facendo una prova a non spaventarti challenge Io me lo ricordo di averlo detto ma lo ridico ancora, se questo video raggiunge i 10 like farò un'altra prova a non spaventarti ma con un altro amico Ok? Quindi impegniamoci a raggiungere questi 10 like E anche vi voglio ringraziare di una cosa Grazie di avermi fatto raggiungere il traguardo dei 60 iscritti E per me è un bel numero, spero di portarlo a livello successivo per i 70 iscritti Quindi non perdiamoci in chiacchiere e ci vediamo dopo Siamo sul video, il video si chiama Most Shocking Pop-Up Jumpscare Scare Video E io vi dico non sono un bello spettacolo quando mi spavento Sembro una, come dire, una checchisterica più o meno Quindi volume al massimo E vamos C'ho paura da adesso Allora qua vabbè non ci capisco niente Mi immagino che dica del Cosa varia Poi devo pensare in positivo quindi Vabbè E una Ma che mi faccia con perfetta Questa è una città C'è una città C'è una città Vabbè Ah ma era per una pubblicità Vabbè Vabbè Credo che riguardi la guida Perché c'è scritto Autoway Quindi Dove Non ci sto capendo niente Non ci sto capendo niente Sono sincero Che hai quale affare Un topo Un topo Ah e c'è la zappola per topi No Non ti avvicinare Non lo fare piccoletto No No Non lo fare Non Lo Fare No 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 Di solito dovrebbe rimanere attaccato Alla trappola Ma Poverino Ma non è un topo È uno scogliattolo Una specie di scogliattolo È Ma non è un topo Porca vacca La donna è grandissima Che cavolo è Cos'è Quanto manca ancora Eh vabbè Sono neanche a metà video Che meno Oh ma che tenero Che bello che sei Bambino È un cinese Non ti adotterò mai Non lo farò mai Nella vita Cinque Michael Jackson Alla Che c'entra Michael Jackson Listen carefully This act.ly From the original clip Sentiamo Dicono che sia La casa di Michael Jackson Ma Dio Ci credo ben poco È passata un'ombra Sì sì È passata un'ombra Ma non è che mi faccia Merda Ma sono Certo No Scoiattoli 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 Sì Scoiattolini Ehi Batuffolo Ciao Che paura Uno scogliattolo Che salta Sulla Bah Sto scendendo la collina Vedo C'è Spaventoso Cazzo Spaventoso Oh no Porca vacca Uh Pesantino No No Questi sono Troppo brutti Non ce la faccio No 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 Paura Ho paura Ho paura No 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 Non è bella No 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 Non è bella No Ti odio Ti odio Ti odio Ti odio Finalmente andiamo con qualcosa di più soft Finalmente Così soft Ma con che giro della psica Con quale Come 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 C'è l'imbalzata E l'imbalzata ancora Non capisco Mi devo mettere che fa paura Basta devo bere Perché non c'è proprio più Madonna Ho avuto una paura terribile Vi giuro raga Voi avete sentito Come ho gridato E Io quando vedo i jumpscare Sono così Tutti i giorni Non solo oggi Bene Spero che il video vi sia piaciuto Lasciate tanti bei pollicioni in su Iscrivetevi al canale Che arriviamo a 70 iscritti E mi raccomando Arriviamo a 10 like Bella raga